Un polo scolastico dentro la caserma Rossi è l'aspetto più rilevante dell'accordo attuativo del protocollo d'intesa interistituzionale del 6 dicembre 2017 finalizzato a razionalizzare, valorizzare e dismettere alcuni immobili pubblici presenti nel territorio comunale sottoscritto questa mattina a Palazzo Fibioni. A firmare il documento il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi ed esponenti del Ministero della Difesa del Proveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna della Regione Abruzzo e dell'Agenzia del Demanio alla presenza anche del sottosegretario alla difesa Angelo Tofalo. L'accordo rende così attuativo appunto un progetto che vede il Comune dell'Aquila diventare proprietario del 60% della caserma Rossi. Nell'ex caserma dovrebbero andare alcune scuole cittadine, in particolare le 5 situate nei quartieri del Torrione di San Francesco e i licei che fanno capo all'Istituto Domenico Cotugno e anche gli alloggi universitari ora nella caserma Campomizi che resterà dunque l'unico spazio militare della città. In base all'accordo il Comune sarà proprietario del 60% della Rossi che per il restante 40% continuerà a essere di proprietà del Demanio e si impegna a realizzare una serie di lavori di adeguamento infrastrutturale all'interno della caserma Pasquali Campomizi cedendo al Ministero della Difesa diversi appartamenti a compensazione dei vecchi alloggi militari in via Filomusi-Guelfi abbattuti per permettere di realizzare negli anni scorsi il parcheggio del Tribunale in una zona ritenuta non idonea alla riedificazione degli edifici che prima ospitavano le famiglie dei militari in stanze in città. Un accordo criticato dalla passata amministrazione definito accordo artificio che permette che l'ex distretto di Amicis se lo prenda l'Agenzia del Demanio e viene criticato per farne uffici dello Stato. Se lo avesse acquisito il Comune come previsto dalla Giunta Cialenti viene fatto notare avrebbe potuto scambiarlo senza oneri a calico con l'ex caserma Rossi.